Dovrebbero tornare in aula oggi i otto pattisti per il Consiglio Comunale della Pacificazione. La sindaca Cecilia Francese ha ceduto loro sul riassetto di giunta pochi giorni fa con l'azzeramento pare di almeno tre poltrone. Si discuterà oggi di variazione al bilancio di revisione con aumenti per una cifra complessiva di 300.000 euro, invocati dai dirigenti comunali Giuseppe Lullo e Giuseppe Ragone. E' ancora sul tavolo il nuovo regolamento della Polizia Municipale, gli incentivi per l'adozione dei cani del canile, il rinnovo della concessione di alcuni locali IACP. Diretta su Sud TV dalle 17.00.